No, non hai sbagliato sito, questa è proprio Radio BAU B-B-B-B-B-B-B-BAU Ci siamo quasi, no? Sì, sì Perché adesso la gabbia ti aspetta Ma io ho un uccello che dentro la gabbia fa così Non l'ho mai visto, anche perché di solito l'uccello i denti non ce li ha No, dobbiamo rifarla perché ha avuto un'ispirazione migliore Vai Perché l'unica gabbia da cui non si può mai uscire si chiama vita Piangi, piangi Io pianco per te